Nell'ambito dell'iniziativa Impara l'Arte, promossa dal Museo Civico di Nevi, questa volta proponiamo come riflessione scultorea. La scultura in effetti tra le tre arti, quelle considerate maggiori, anche se di fatto poi non lo sarebbero, dopo la pittura è quella intermedia e presenta per alcuni aspetti la lettura, quella pittorica, cioè di fronte, ma non presenta per esempio in questo caso la lettura intorno perché essendo un rilievo e non una scultura tutto tondo, la visione è solamente frontale. Quindi siamo in una via di mezzo, faremo una lettura frontale ma allo stesso tempo terremo presenti i vari rilievi perché il rilievo naturalmente rispetto a qua su tela o su a fresco presenta dei rilievi veri e a seconda di come la luce può essere più o meno radente rispetto al piano frontale, questi rilievi emergono in misura maggiore o minore. Quindi quando si osserva una scultura, un rilievo, ammesso che sia possibile, non certo in un museo, ma in un posto possibile, con una lampadina adascabile basta metterla su un lato e proiettare la luce di traverso e le figure emergono. Non è proprio una cosa consigliabile sempre ma in alcuni casi poi con lampadine che non hanno si può fare. Quindi il fatto è questo. Di che cosa parleremo oggi? è una scultura carolingia dell'età quindi del periodo di Carlo Magno e sepito che è nella cattedrale di Civita Castellana. Non è proprio dentro la cattedrale poi vedremo è in un oratorio a fianco ma comunque si può accedere o dalla cattedrale o dall'interno del cortile del palazzo Vescovile. E in che ambito siamo? Che periodo? Ecco per un piccolo riesame della situazione siamo attorno vedete alla fine qua dopo il sette e quarantaquattro l'esarcato alla morte di Lutte Prando comincia quello che viene chiamato il periodo diciamo in qualche modo carolingio. Qui vedete il solito tragitto che da Roma porta all'esarcato di Ravea particolare e vedete che l'unica via transitabile è la Merina perché la Flaminia in alcuni tratti era interrotta e quindi tutto quello che vediamo noi risente di questa corrente anche artistica. vedremo che apriamo degli ascendenti anche come si può dire bizantini che ci vengono da quassù da Ravenna che rappresentava l'impero romano d'Oriente e via fino al Ducato Romano. Questi bizantini che ho citato adesso cioè quello che in effetti era un'area di cuscinetto è chiaro che non lo proteggevano soltanto noi il Ducato Romano ma lo proteggevano anche i bizantini perché in qualche modo fino a che non si scollegherà da tutto che il Ducato Romano sarà autonomo completamente c'è questa sorta di di concomitanza. Eccolo qua qui siamo nel diciamo la fine ecco vedete i Longobardi conquisteranno quest'area qua e quindi interrompono la comunicazione con Perugio e con l'esarcato. L'unico corridoio invece era quello nostro. Ecco come si presenta la Duscia Romana in questo momento particolare. Si fa se l'anare questa è la via Merina eccola qua Santa Bruna, Vasanello, Orte e Bassù. Questa è diciamo la via Flaminia ma che in qualche modo è reinterrotta in quel periodo. Ed ecco la scena dove si trova abbiamo detto nell'oratorio del Sacro Cuomo di Maria è una è di marmo e larga un metro ottantadue questo è importante perché quando noi ipotezzeremo che questo sia il fronte di un sarcofago la misura corrisponde a quello che sarebbe un normale sarcofago. L'altezza è zero settantasei e questo è tra la fine dell'ottavo secolo e la prima metà del nono periodo carolinio insomma nell'ottocento ma anche poco prima Carlo Magno a fine del settecento prende Ducato e quindi poi l'incoronazione dell'ottocento così via fino alla prima metà. Mentre l'iscrizione che vediamo sopra è del nono secolo cioè per me secondo la mia ipotesi è di una cinquantina di anni e quaranta cinquant'anni dopo che è fatto che dopo il sarcofago poi vediamo questo sarcofago quando fu fatto e perché stava lì. Eccolo qua questo è l'oratorio di Maria di Santa Maria civica questo è la cinegetica cioè la scena di caccia si dice cinegetica quando la scena di caccia partecipano i cani in prevalenza quindi la chiameremo scena di caccia o cinegetica secondo i vari momenti. E ci sono due bellissimi plutei dentro l'oratorio di Santa Maria oltretutto degli affreschi qui del tardo quattrocento primi del cinquecento ma come tante cose non è così conosciuta. Pensate che questo diciamo questo sarcofago che in qualche modo era tra i più noti alle quantomeno in Europa pensate che ci sono almeno centocinquanta pubblicazioni dalla fine dell'ottocento agli ai giorni nostri più di centocinquanta pubblicazioni quasi tutte specifiche e di settore che parlano di questo manufatto come estremamente raro in questo periodo lo considerano quasi un una campionatura un qualcosa che possa fare di riferimento prima stava prima di essere portato nell'oratorio stava nel portico di Santa Maria eccola qua vedete sta qui fuori questa è una foto che è la biblioteca ma da dove proviene? Le memorie dicono che quello è manufatto che oggi sta appunto nell'oratorio nel milan novecento undici il Mugnoz dice che veniva da casa Marco Antoni Cardinali nel trentacinque è un prete di Civita quindi ha dovizia di particolari dice che viene dal giardino della famiglia Cazzanica oggi eccetera 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 e dice che in antico fosse stato nella cattedrale ora questi due palazzi quello citato dal Mugnoz il palazzo anticamente Marco Antoni e oggi onorati eccetera 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 questo in effetti e questi due palazzi contigui avrebbero in comune un giardino centrale e si ipotizza che questa lastra provenisse proprio dal giardino cosa strana cosa strana che a Civita Castellana nella chiesa di Santa Maria dell'Arco esiste un altro paliotto della stessa misura simile a quello coerente con lo stesso perché anche qua si vede il cacciatore che si prepara con la picca a uccidere il cinghiale intorno ai cani due quattro cinque sei sei sarebbero di qua e sarebbero di dodici cani l'ipotesi a livello religioso e teologico è che quello possa essere un emblema diciamo che richiama Cristo che uccide il maligno cioè il male il male era sempre stato impersonato con il cinghiale nell'antichità quindi uccidere il cinghiale era un segno quasi di voler distruggere il male ed ecco il il paragone tra il il rilievo che sta nella nell'oratorio e quello che sta a Santa Maria dell'Arco Santa Maria dell'Arco è una chiesa poco fuori Civita vicino all'ospedale di fuori Civita insomma è nell'ambito urbano ma è poco prima dell'ospedale a sinistra vedete che non sono identici hanno anche uno stile leggermente diverso anche se questi omini qua hanno la stessa capigliatura lo stesso modo di elaborare le cambe tozze storte basse eccetera ed anche gli animali hanno la stessa postura ma se vedete sono leggermente diciamo diversi più avanzati sono più curati rispetto a questi sopra che invece vedete sono molto sommari quindi questa sopra in effetti questa scultura sopra quella è coerente e questo e io ipotizzerò alla fine che queste stavano proprio nello stesso posto qual è la tradizione della caccia cinghiale? La tradizione della caccia cinghiale addirittura risale al VI secolo a.C. come raffigurazioni e quindi vedete che poi si ripete allo stesso modo c'è il cinghiale di solito enorme eh rispetto al cacciatore i cacciatori di solito sono a terra e colpiscono con la picca una un piccolo spadino una lancia una lancia corta perché il cavaliere vero doveva scendere da cavallo e affrontare a diciamo di fronte il cibo perché l'azione possa essere veramente compiuta a Blera per esempio c'è un'altra scena è un del ducento dieci a.C. c'è una scena anche qua con un cinghiale vedete che minaccia le persone eccetera eccetera ma anche a livello archeologico sono tantissime questa questa non non vi annoio vedete in questa scena come il cane partecipa alla caccia anche in questo caso come i cani attaccano perché porto queste scene perché sicuramente chi ha fatto il sarcofago aveva in mente questo mondo mondo classico quindi vengono dal mondo classico e vedrete che dureranno fino al seicento settecento queste raffigurazioni a Pompei nella casa del cinghiale uguale nel museo della civiltà romana uguale la caccia e la pesca vedete c'è una scena di qui in questo caso il cavaliere a cavallo e qui ci sarà da fare una presentazione perché a un certo punto quelli vengono raffigurati a cavallo però se fate caso qua e lo vedremo dopo questi cavalieri pure diciamo che sono in sella quasi a pelo hanno una piccola coperta e basta e non hanno in alcuni casi la staffa ecco questa Roma palazzo d'oro d'oro scusa palazzo d'oro e qui diciamo qui andiamo adesso in Francia perché in qualche modo io voglio dire un ascendente francese in quel fronte di sarcofago ecco qua inutile adesso andare vado veloce questa è il museo i capitolini terzo secolo e palazzo Mattei siamo nel terzo secolo ma addirittura a Viterbo il sarcofago della bella Galiana in effetti è una caccia geniale vedete e questo è il cavaliere anche qua il cavaliere che colpisce eccolo qua adesso sia una caccia al cigliare o un leone questo non si non si vede bene però in effetti è una caccia quindi vedete il cavaliere anche in questo caso impegnato a cavallo qui siamo a Piazza Armerina nei mosaci di Piazza Armerina bellissimi vedete torno a casa con il catturato le fasi sono più di una e qui siamo un museo dei dati quindi siamo nell'ambito francese Firenze Battistero di San Giovanni Toulouse sempre in Francia questa l'ho messa perché in effetti troviamo gli alberelli qua se voi ricordate lo vedremo dopo questi alberi in effetti ritmano la scena sono quasi vedete c'è il cavaliere che in attesa il cavaliere che colpisce e il cavaliere che sembra risalire a cavallo questi sono i sarcofagi qui cominciamo proprio a ipotizzare che sia un sarcofago questo è un sarcofago Merovini è precedente al periodo carolingio ma l'ambito è lo stesso e vedete su questo sarcofago ecco qua la caccia al cigliare addirittura questa è con il nazionale museo qui vedete che le figure cominciano a essere simili a quelle di Civita Castellana appena accennate sul piano piatte è soltanto il rilievo che ci suggerisce la forma ma non c'è plasticismo non c'è volumetria questa è quasi tutti quando parlano del sarcofago di Civita diciamo scusate sì il fronte è questo perché anche questa è una scena di caccia e alla basilica di San Sabba il periodo è lo stesso però le differenze sono molte quindi significa che l'artista non è di quella corrente quantomeno Palermo addirittura vedete nel quindimo secolo ancora nel libro di caccia nella biblioteca nazionale francese si ripete la stessa tematica della caccia la caccia la caccia e qui anche sulle i varie come si dice anche sulla ceramica ecco e qui il castello sforzesco eccetera 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 da dove viene l'immagine? Da dove viene l'immagine? Beh l'immagine del cavaliere potrebbe essere anche raffrontata con una brazza con una placca in in oro questa qua una brattea longobarda vedete perché ci può essere questo ascendente? L'artista che lo ha fatto conosceva queste questa diciamo arte longobarda l'arte longobarda è molto decorata da vedete Ghirlanda eccetera ed è molto animata quindi quella questa dicibita è diversa vedete è classica è ferma è più sobria questa longobarda è molto più come si dice mossa ecco questa è la differenza ma nella tematica siamo sulle stesse vedete questo per esempio dalla Germania qui abbiamo il cavaliere proprio a cavallo la stessa posizione delle gambe perché nella scuola e nelle immagini si sembra vedere le andature perché le andature suggeriscono il movimento quindi ma anche la gestualità vedete questo cavallo ha il muso in alto questo ce l'ha a terra quindi tutto e le anticamente queste cose venivano lette anche delle persone più semplici con questa metodologia che noi abbiamo aperto facciamo delle letture molto sommarie spesso importanti dal punto di vista critico e stilistico ma che in effetti poi perdiamo spesso il contatto con questa situazione ecco qui io l'ho messa perché in effetti questa immagine sotto c'è scritto contubernali i contubernali erano i grandi aristocratici romani che una volta che erano andati in pensione andavano nelle città facevano le loro ville ma erano considerati nelle città dove arrivavano persone di grande elevatura perché grandi ufficiali dell'esercito senatori oppure ecco e a civile ricordate un contubernale adesso ipotizzare che questo contubernale sia colui che ha preso questo farcofago e che l'ha fatto portare nella cattedrale per un motivo suo questo lo vedremo dopo se è ipotizzabile però è una delle ipotesi ecco qui vedete che ci sono dei paragoni per esempio un'altra scena simile che è a pian paradiso su quella diciamo quel complesso con la chiesa eccetera che sta sulla flaminia al biblio di calcata se uno va dentro lì trova questo rilievo e vedete animale compreso entro e diciamo delle decorazioni delle vaste cose con la cioèiane a vasonello addirittura uccite si intravedono degli uccelli scusate le foto ma magari sono quelle che purtroppo sono riusciti a rimediare perché diciamo erano quelle più eh definite a livello plastic che poi i cani ricordano vedete Sanzon delle Rocche Monastero di Pental Santo Sarcofago Merovingio ecco tutto si rifà anche questa questo cippo di Vasanello è del settimo ottavo secolo siamo nello stesso periodo gli animali sono piatti eccetera ecco qua adesso questo è un paragone tra l'ominio di Santa Maria dell'Arto e l'Otria Castellare e questo mino dove lo troviamo questi omini? anche a capo nella chiesa di San Leone a Basanteverina chiesa di San Biagio a Campagnano questi omini così particolari eccoli qua di questo tutti naturalmente siamo tutti nell'ottavo nono secolo eccolo qua poi andiamo qui a livelli alti la lamina di Agiluseo Nazionale del Bargello hanno tutti questo questo volto piriforme a pera ecco qua questo siamo in Francia appunto per insistere sull'ascendente anche francese guardate a Ferentillo per esempio anche poi ci sono le varie croci le varie l'oreficeria eccole qua i volti molto simili eccolo qua tutti una casistica a Bomarzo per esempio il coperchio ha delle decorazioni che anche questo è del nono secolo ha delle decorazioni che richiamano l'epoca merovingia ottavo nono secolo ed ecco la scrittura che è sopra la scrittura se vedete si interrompe dove stanno delle rotture eccola qua c'è una rottura qua eccola c'è una rottura qua e sembra che dove c'è la rottura no dove sembra non viene scritto l'ipotesi quindi che loro avessero un sarcofago il fronte di un sarcofago molto importante del periodo carolingio questa autorevole persona lo prende e lo dona a fini culturali cioè con l'ipotesi che questo vada in una chiesa e che c'è scritto sopra ecco eccolo qua ecco in dei nomine consoluete dux una cum adriano figlio meo benefattori ora questa epigrafe è stata letta da decine e decine di persone alcune anche specificamente nel campo proprio epigrafico e anche luigi cimarra diciamo è un esperto in quel settore ed io ho preso una delle ultime sue elaborazioni che a me sembra la più corretta questa che ho letto adesso è stata pubblicata da cimarra nel 2013 2014 e da colloqui avuti anche ieri e l'altro ieri conferma che per lui la lettura può essere questa ma chi è questo Adriano? Questo è il problema io Antonio e chi è Adriano? Padre e figlio questo non ci piace Antonio è un console e te dux guardate che non c'era Civita Castellana almeno non è documentato un console e dux ce n'è per esempio una neve in quel periodo però ripeto Civita Castellana come in altre parti persone si portavano dietro questo appellativo se uno era stato console e dux se lo portava dietro quando andava in un posto diceva che era questo ora dove stavano? Ora dove stavano? A che cosa può essere servita questa questa lastra? Guardate che Civitale che è un tempietto roncobardo ha due lastre una sinistra e una a destra Santa Maria delle Grazie a Grado due lastre una sinistra e una a destra che danno eccesso a Nicolòstrasi Toscania San Pietro una sinistra e una a destra tenete presente io ho portato tutti questi esempi per far capire i periodi come sono diversi a San Pietro eh la chiesa lavora nei maestri comacini ottavo nono secolo e portano motivi stilistici lombardi e lombardi e lombardi perché avete visto anche l'ambito longobardo eh a nord e Civitale per esempio in Frio eccetera ma basta andare alla Basilica di Stelzantelia l'Iconostasi ha uno e due lastre mentre loro si sono più dedicati alla decorazione del pulpito al rimontaggio del pulpito tant'è vero che questi elementi del pulpito qui sapientemente disognati in una sua eccellente pubblicazione dall'architetto Vincenzo Girolami attuale sindaco di Stelzantelia e che tiene moltissimo a questa caratternale addirittura abbiamo visto l'altro giorno è stato ultimamente recuperata diciamo una una chiusura in lapidea che era stata fraudata è stata portata pochi giorni fa a Castello è stata restituita e in cattedrale di nuovo visibile ce n'era già un'altra e questa torna la gemella ecco questi rilievi li vedete questi sono sul pulpito però come fate caso vedete animali nelle dentro delle decorazioni eccetera ma dov'è che è più permeabile il discorso basta andare a Capena questa è la chiesa di San Leone e c'è un'Iconostasi del nono secolo decorata ecco qua non solo ma anche quel l'arco che copre sopra di questo periodo e ecco questo è un paragone tra Capena e Civita Castellana vedete come il pluteo c'è anche un pluteo a Capena è pressoché identico il che fa trasparire che ci fosse in zona un'officina si chiamano officine anche i laboratori di materiale lapide o in quel periodo vengono definiti vengono definiti officine o in un laboratorio e guardate che non c'è solamente quello a Civita Castellana di frammenti questa è a Capena addirittura un altro pezzo un pilastrino nono secolo Civita Castellana al vescovato identico nono secolo Civita Castellana Santa Maria dell'Arco dove è quell'altro che vi ho fatto vedere prima ce n'è ancora un altro quindi siamo proprio nel periodo che a Civita nelle chiese viene diffusa queste cose adesso Roma Santa Sabina eccetera ed ecco Santa Maria dell'Arco dove sta la seconda lastra quella che io ho ipotizzato che sia non solo coerente e pertinente ma legata alla prima spesso viene citata ma non viene fatto questo raffronto raffronto forte questa chiesa nell'antichità è stata considerata da alcuni l'antica cattedrale di Civita Castellana prima di quella attuale il discorso è ancora aperto un colloquio avuto l'altro giorno con Augusto Ciarocchi ha scritto un bellissimo medievale ed anche lui diceva che questa ipotesi è ancora aperta perché questa è una chiesa molto più antica di quello che appare e in effetti dentro ecco adesso questa è una visione degli anni trenta quando prima passava il tram e qui non so che cosa eccetera ed ecco che a Santa Maria dell'Arco in quella chiesa che i civitonici chiamano del Carmine spesso dove c'è il monastero delle monache e qui ci colleghiamo alla precedente conferenza diciamo sulla pittura quando i monaci avevano la loro la loro importanza ed ecco quindi qui siamo a Santa Maria dell'Arco con tanti elementi dello stesso periodo quindi non si sono limitati soltanto a quelle diciamo alla lastra ma tutto quanto il campanile è pieno siccome il campanile è un campanile del periodo romanico quindi siamo in un'antichità abbastanza seria se gli elementi sopra sono stati messi sono sicuramente precisi essi sono del nonno decimo secolo dentro Santa Maria dell'Arco esiste un pilastrino frammentario vedete che c'ha una sorta di aggancio sulla destra questo si chiama gallone termine tecnico ed ecco la lastra di civita frantumata a metà e il dietro è interessante perché il dietro è lavorato quindi questa di Santa Maria dell'Arco non può essere il fronte di un sarcopolo perché dietro è lavorata allora l'ipotesi che avanzo io è questa è che questo aristocratico di civita o che aveva rapporti con civita una il fronte del sarcopolo probabilmente o alla cattedrale che è stata essa Santa Maria dell'Arco o la cattedrale attuale molto probabilmente questo aristocratico dona questo fronte di sarcopolo che dice sopra insieme a suo figlio ma ordina in un'officina civitonica una un pandan cioè quello che sarebbe dovuto essere nella parte destra diciamo dell'iconostasi cioè creando poi due scene coerenti tra loro è chiaro che dietro qui ci è stato sicuramente il suggerimento di un sacerdote di un sacerdote di un vescovo perché civita già era e quindi viene dato un valore teologico nella prima scena nel sarcofago sappiamo che il cavaliere che uccide il cinghiale fa riferimento all'uccisione del maligno ma qua è ancora più chiara e perché e lo vediamo adesso perché ho fatto una ricostruzione ipotizzando dall'altra parte diciamo tra metà tutta intera in effetti facendola vedere no ipotizzando sì insomma praticamente vedete che questi cani e questi sono gli stessi io ho preso questi l'ho rotati e l'ho messi di qua e ho creato quella che in origine era sicuramente l'astra uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici cani il cinghiale e il cacciatore Cristo uccide il mare questo era per me ipotesi teologica che fu suggerita nel rimontaggio di questa cosa qui si vede bene la la l'attacco delle cacciatore al cinghiale il cinghiale qui è in atto manzoeto ecco diciamo queste immagini necessiterebbero di ore di perché qua la manzoetudine rispetto agli altri cinghiali aggressivi che abbiamo visto è che la religione trionfa sul mare quindi basta la presenza di Cristo per in qualche modo colpire il mare qui il cinghiale è sottomesso i cani no i cani collaborano ed ecco che allora si ipotizziamo i dodici apostoli la collaborazione proprio l'aiuto proprio forte alla figura centrale del Cristo i cani sono vicini come gli apostoli del Cristo questa è la simbologia potrebbe essere in qualche modo avanzata a capena le riconostasi siamo sempre nello stesso punto di discorso ci sono anche in questo caso oltre agli esempi che vedere prima nel vescovato di pian partiso ma anche a Milano Sant'Ambrogio pensate quanto è lontano eppure guardate questi incroci sono gli stessi questi identici e anche qua siamo per dire che l'artice carolingia si diffuse in tutta Italia l'artista che fece il sarcofago può essere ipotizzabile che conoscesse l'ambito francese ma potrebbe essere benissimo che era un un operatore che stava a Roma e che conosceva questi linguaggi e fa fare questo sarcofago a Ravenna uguale si vedono gli animali lambone ad Aquileia si ripete lo stesso motivo a Civitale del del Friuli il bellissimo altare del Ducarachis ma addirittura leggermente precedente infatti queste figure vedete che sono molto più sommarie di quelle di Civita 70 50-60 anni prima ed ecco che nella Curia esistono tantissimi frammenti che testimoniano questa presentazione questa ecco perché c'erano delle officine pensate che a Soriano nel Cimino nella chiesa di San Giorgio c'è un bellissimo rilievo del dodico tra la fine dell'undicesimo siamo siamo tra il mille e mille cento dove sono la figura di che degli scalpellini vedete che stanno lavorando su stanno scalpellando questa è la testimonianza se se fosse stato ancora bisogno oltre a quelle documentarie e bibliografiche documentate eccetera archivistiche che c'erano delle officine locali non solo ma se andiamo a Corchiano nella chiesa di Santa Maria del soccorso nell'edificazione c'è una bellissima scena in un affresco a sinistra appena entrando dove si vede che stanno costruendo la stessa chiesa cioè hanno affrescato il momento vita siamo nel cinquecento ma vedete anche qua a destra ci sono gli operatori che lavorano i lapisciti che lavorano la pietra quindi vedete che è stato consueto questo discorso e adesso un ultimo riferimento stilistico non so quanto tempo ho non vorrei sforare e allora prego magari Stefano di segnalarmi il dottor Francocci ecco allora vedete che dal punto di vista stilistico le differenze si sono questa è una scultura antica ma non più di tanto nella pittura abbiamo già parlato delle diagonali ed ecco che qua il cavaliere colpisce in diagonale poteva anche colpirlo da sopra poteva anche colpirlo in orizzontale però questo lascia trasparire che c'è una sorta di movimento che non è consueto ma non solo ma il cavaliere se vedete porta la staffa e la staffa secondo lo studio fatto sempre dall'avvocato Cerrocchi lo studio corretto molto attento lui in effetti dimostra che la staffa c'è dall'ottavo dal nonno secolo in poi questo tira verso il nostro periodo un'immagine che potrebbe essere confusa come è stata confusa spesso con un'immagine del periodo Longobardo addirittura iniziale non è così perché la staffa innanzitutto non c'era se servizio in ulteriore eh valorizzazione diciamo eh valoramento alla testa ma lo stile è completamente diverso il classicismo romano certo il cavaliere è un cavaliere solenne ha una sua prestanza abbiamo detto già il discorso degli sguardi il cavaliere ci guarda non guarda il cinghiale amici mi rivolgo a voi guardate che sto facendo un'azione epica perché l'azione della caccia al cinghiale rientrava nelle azioni degli eroismi che un cavaliere poteva compiere per aver coraggio bisognava affrontare il cinghiale a piedi con la picca e di fronte questa è ancora oggi nelle nostre zone esistono le bande di cinghialari noi si chiamano così i gruppi che vanno a caccia di cinghiale opera militoria perché se no saremmo sommersi e ancora oggi c'è proprio tutto un rituale nella caccia eh i cani che segnalano l'arrivo che segnalano l'arrivo prossimo del cinghiale e avverti chi dovrà colpirlo chi si prepara per quindi c'è tutto un rituale che viene dalla notte dei tempi quindi vedete che oh invece nella seconda lastra che io ipotizzo più tarda questo discorso non c'è più nel senso che i cani sono molto più dire sono molto più plastici vedete che hanno la definizione per esempio del punto vedete le gambe hanno una definizione diversa da queste che sembrano tutte una diciamo rigide secche eh ed anche la figura è leggermente diversa eh quindi parliamo di plasticismo abbiamo detto che in un'opera bisogna guardare sempre le coordinate di impostazione questa dividiamola in quattro in due parti eccola qua abbiamo una scena e una seconda scena eh qualcuno ha ipotizzato che l'artista abbia rovesciato le scene cioè abbia detto che questo era l'inizio della caccia e questo era il finale per me no e per me questo è il momento in cui più solenne in cui il cavaliere uccide il cinghiale qua c'è la persona che richiama tutti la caccia è finita suona rientriamo questa è l'ipotesi diciamo che per me è più corretta anche perché ipotizzare che l'artista abbia voluto fare un'inversione temporanea mi sembra abbastanza come si dice astratto quantomeno come concetto questo nell'antichità le persone perché sapevano queste cose perché non avendo la televisione non avendo i social senza nulla togliere eh per carità oggi per chi vuole fare anche cultura e vedere cose che sono elementi indispensabili ma a quei tempi era il parroco era qualcuno del paese che sapeva un po' di più che sostavano ore davanti alla lettura di questo oggi si riprende in qualche ambiente per esempio Antonello Ricci sta facendo delle esperienze con il gruppo dei narratori a Viterbo ha collaborato anche con l'università cioè il narrare è chiaro che di fronte a un'immagine ci vorrebbe il medium cioè colui che riesce a trasferire le competenze le conoscenze che ha perché la studiate a chi non avendo le studiate però è interessato pensate che nella mia esperienza ho scritto ho insegnato per quarant'anni ho insegnato storia dell'arte quindi ho conosciuto tantissime persone poi per le pubblicazioni per gli archivi eccetera io ho incontrato persone che non avevano alcun titolo specifico nella storia dell'arte ma ne sapevano molti più di me perché avevano curato fin da adolescenti questo Federico Zerri non era da lavorare di storia dell'arte Federico Zerri uno dei più grandi diciamo conoscitori dell'arte italiana era biologo tant'è vero che con il professor Faldi che ho avuto la fortuna di 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 lavorarmi con il professor Faldi intimo amico di Federico Zerri e che ho avuto la fortuna di portarli in macchina tutti e due insieme perché io guidavo e loro sedevano dietro e la signora Giulia la moglie di Faldi sedeva avanti a me quando dovevano andare in qualche parte per due o tre volte li ho accompagnati e le loro conversazioni erano di un'ironia un'ironia tremenda cioè proprio le persone che sapevano sorridere di loro stessi e Faldi diceva che lui non era un professore universitario a Zerri e Zerri gli diceva sì ma io sono accademico di Francia e Faldi gli diceva ma io sono accademico di San Luca quindi capite che nell'arte è la visibilità che conta io quando insegnavo ho trovato degli studenti si apprende anche quando si insegna spesso anzi molto che facevano delle osservazioni talmente acute che aiutavano la lettura dell'opera d'arte e che spingevano in una ricerca secondo quello che loro avevano intuito però in maniera così spontanea ecco il naturalismo che comincia a emergere le piante sono ben definite hanno i rami ci sono delle forme piriforme quindi questo dovrebbe essere un frutteto albili di pere e questo ha valore anche il fatto che bisognava proteggere i frutteti e gli spazi coltivati dall'aggressività dei cinghiani però chi vuole leggerci nei frutti c'è anche un socché che richiama appunto il mondo naturale il mondo diciamo anche delle ricche proprietà intorno alle grandi ville c'erano dei frutteti eccetera questa Santa Maria delle Grazie cioè l'iconostasi questa Civitale siamo nella metà dell'ottavo secolo iconostasi Tuscania l'abbiamo già visto Tuscania l'abbiamo visto Basilica l'abbiamo visto scusate questa è perché mi sono andato avanti un po' ecco mi sono andato avanti un po' d'immagini finisco con la mia ipotesi finale proprio io per me è questo il modo in cui furono utilizzate le due raste il ricco nobile consulette Tusc si comprò questa fece mettere la sua scritta in alto e disse io con mio figlio Antonio benemerenti cioè dobbiamo qualcosa l'ambito naturalmente ecclesiastico qualcosa alla religione una grazia ricevuta qualcuno ipotizza un battesimo ma non cioè in effetti loro offrono questa e offrendola come ho detto prima viene ipotizzata il completamento a sinistra Santa Maria dell'Arco mancano naturalmente gli altri sei cani io ho messo l'originale qua eh abbiamo detto che l'originale è mutilo quindi immaginatelo con tutti e dodici i cani eccetera qui c'è la preparazione alla caccia Cristo è pronto ad uccidere il cinghiale e qui c'è la caccia effettiva con la fine si potrebbe anche rovesciare mettere qua la caccia e qui fare un commento quasi teologico alle alla scena della caccia ma ripeto questa scultura e se possiamo vorrei tornare un attimo all'inizio scusatemi concludiamo con questa considerazione sono tante le opere d'arte presenti a Cilida presenti nei vari musei a Nevi a Gallese a Orte non vorrei trascurare nessuno in ogni paese della Merina ci sono luoghi da visitare tantissimi sono sconosciuti alla maggior parte delle persone e sono come in questo caso tra i più importanti in Europa quindi io invito tutti coloro che con grande sapienza con grande spirito di sacrificio accompagnano i vari visitatori con con il loro diverso ruolo nelle nostre nei nostri paesi e nelle nostre città tenete presente che Nevi Sudri Civita Castellana Porta e Gallese sono città perché sono state sedere e scomili portino le persone anche a vedere questi luoghi più eh diciamo nascosti da parte mia mi rendo disponibile per qualsiasi informazione possa essere utile vi ringrazio per la pazienza dimostrata